Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft, signori, io sono Maullo e oggi siamo nel sesto o settimo episodio, non mi ricordo, signori, siamo in un nuovo episodio, questo è sicuro, di Minecraft, signori, pronti per la nostra nuova avventura. Oggi è un episodio molto rilassoso, signori, oggi metteremo le basi per la nostra casa, che ho deciso che sarà fatta in mezzo all'oceano, sì, signori, oggi così, alternativi, faremo dei bungalow in mezzo all'oceano, faremo delle ramificazioni che raggiungeranno tutte le zone, e verrà qualcosa di grazioso? No, assolutamente no, perché nei nostri video non viene mai qualcosa di grazioso. Ho messo già la base dei gradini, da qua partirà il ponte che ci porterà verso casa, abbiamo un sacco di bambù, siamo più o meno al centro, ora non so se quella coltivazione di bambù rimarrà, oppure la estenderemo tutta lunga così per fare proprio una montagna, una zona di accesso limitato fatta dai bambù, non ci frega niente, vedremo cosa succede, signori. Allora, qual è il progetto di questa casa? Non ho la più parla di idea, di sicuro voglio fare qualcosa in bambù per utilizzare il bambù che io non ho mai utilizzato, l'ho detto bambù, l'ho detto bambù, quindi direi intanto di fare un bel ponticello lungo, un bel ponticello lungo dove però intanto io metterei di sicuro questi solidi, questi qua solidi, in modo tale che facciamo l'inizio del nostro, sto vomitando, l'inizio del nostro ponte quantomeno deve avere delle basi, è giusto signori, non può essere così in aria, quindi direi queste che poi in teoria dovrebbero scendere anche qua sotto, una cosa del genere così per dar la parvenza di un qualcosa che sta con i piedi per terra e non sta in aria a volare nella più totale fantasia. Allora, tutto questo non riesco neanche più a risalire, questo è un problema, cado dal ponte e sono finito praticamente. Detto questo, noi potremmo a questo punto fare degli slab, tipo questi di qua, e iniziare a costruire il nostro ponticello. A questo punto qua ce lo potevo mettere pure sano, ma sì, i mammi ti ce lo sanno, ma chi se ne frega, ce li abbiamo, li sfruttiamo. Allora, facciamo una sorta di ponticello, intanto ne ho tre signori, ne sto piazzando tre. Quanto dobbiamo camminare? Dobbiamo liberarci dalla terraferma, quindi direi che un bel po' dobbiamo camminare. Quindi facciamo una botta di slab come se non ce lo sono domani, sto a fare una gran credinata, può essere signori, può essere, ma noi non ci preoccupiamo. Sessanta penso che intanto mi bastino intanto per buttare giù un'idea, è giusto? Intanto dobbiamo capire se l'idea funziona, dobbiamo buttare giù un'idea per capire se funziona. Allora, direi intanto di allungarci un bel po'. Mi avete consigliato dei consigli nello scorso video che ho letto, quindi ringrazio a tutti per i commenti che mi lasciate nei video precedenti. Ovviamente signori ringrazio a prescindere per il like e per il supporto che date a serie e al canale. Secondo me come prima casa potrebbe anche andare bene, ci va bene, ma chi se ne frega, andiamo ancora più avanti. Facciamo il ponte lungo signori, facciamo il ponte lungo, ok. Detto questo mi sta bene, detto questo mi sta il grande ponte per arrivare a casa. Sarà bella la nostra casa? No, sarà grandissima cagata, quindi stiamo tranquilli. Allora, diciamo che noi arriviamo fino a questa zona di qua, quindi a questo punto dobbiamo allargarci perché dobbiamo un attimino capire, dobbiamo poterci muovere nel ponte di casa, è giusto? Quindi direi almeno un altro giro così, perfetto. Poi considerate che qui comunque ci sarà il corrimano e quantomeno due dobbiamo lasciarli, è giusto? Quindi facciamo un terzo, perfetto, così. Vedete cosa cazzo la stai dicendo? Ok, sì, stiamo calmi. Questo diciamo che, ora andiamo a disegnare, qua ci sarà la porta di entrata, ok? Quindi il perimetro della casa deve essere porta di casa, pilastro, vetro, pilastro per girare, quindi qui girerà il pilastro di casa nostra, ok? Quindi diciamo che poi abbiamo pilastro, vetro, pilastro, vetro, pilastro per girare, ok? Quindi abbiamo detto, questo è il pilastro, quindi vetro, pilastro, vetro, vetro, pilastro, vetro, pilastro. Dovrebbe, le misure dovrebbero tornare, signori, è vero. Vetro, pilastro, vetro, pilastro, vetro, pilastro. Dovremmo, no, forse ho sbagliato qualcosa, ho sbagliato qualcosa? Non lo so, signori. No, è giusto, perché qua c'è l'entrata, quindi pilastro, vetro, pilastro, ok? Forse le misure tornano, signori, forse le misure tornano. E questa già sarebbe una gran cosa. Se siamo riusciti a far combacere le misure, questa già, già sono contento, signori. Già sono contento. Allora, facciamo una cosa. Intanto sta calando la notte, quindi andiamo a dormire. Non possiamo lavorare di notte, non mi piace per nulla, quindi andiamo a dormire. Prima che spawnano qualche mosso, come è successo lì, signori, che è spawnato un creeper e mi è saltata a mezza zona di bambù. Però dettagli sono cose che succedono praticamente durante la registrazione di un video. Allora, faccio un breve taglio, signori, perché sennò mi avviene tutto il video che praticamente stiamo a fare sta cosa. In cui completo un attimino il ponte e facciamo il giro della struttura, così poi vedete la struttura sana e capite meglio di che cazzarolo stiamo parlando. Ok, signori, diciamo che il disegno della casa dovrebbe essere questo. Brutto? Abbastanza, abbastanza brutto. Ma no, se le cose non sono brutte non ci piacciono, signori. Il disegno della casa dovrebbe essere questo di qua, più o meno. L'autolibra del bambù che piano piano è caduto giù, però niente di preoccupante, niente di non recuperabile. Allora, io continuo un attimino piano piano il disegno, così riesco a farvi vedere bene come dovrebbe venire tutta quanta la situazione. Bene, questo così, questo così e poi ovviamente faremo un taglio bello grosso, un taglio in cui completerò questo giro di questo bordo, diciamo. Diciamo così, avrete bene l'idea di quello che voglio fare. L'ho fatto giusto? No, l'ho fatto? Ma porca, ma porca! Vedete cosa succede quando faccio le cose che voglio? Ok, va bene signori, rapido taglio prima che spengo tutto e lo lancio in aria. Ok signori, siamo tornati. Intanto ho passato qui il legno di quercia al centro del ponte, così viene il più carino. E questa è la struttura della casa. Adesso un attimino si inizia a capire. Qui faremo tutto il giro con il passamano, diciamo, con le staccionate in modo tale da non cadere a terra. E abbiamo due bei passi per poter muoverci. La casa al solito non è bellissima, signori, ma voi lo sapete meglio di me. Io le cose belle non le so fare. Allora, dopodiché noi dobbiamo salire. Intanto qui dobbiamo salire di 1 e di 2. Sì, sì. Allo stesso tempo di qua saliamo di 1. O se no potremmo, sapete, potremmo fare, potremmo... No, 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 mi piace di più così. Mi piace di più così. In modo tale da fare questo così, questo lo piazziamo così, e qua saliamo pure di 2. Qua saliamo di 2, qua saliamo così, quindi questo lo mettiamo così, e andiamo avanti con questa sistemazione, signori. Allora, abbiamo detto pilastro, finestra, pilastro, quindi pilastro, pilastro, così. Poi qui c'è stata un'altra finestra, quindi in teoria pilastro, pilastro, stochete. No, no, abbiamo sbagliato qualcosa. Abbiamo decisamente sbagliato qualcosa nella nostra costruzione. Breve taglio, signori! Ok, signori, allora, c'è stato un piccolo figlio, ogni volta che prendo le misure sbaglio sempre qualcosa, veramente non ci posso fare nulla, signori. Allora, abbiamo un piccolo modifico, abbiamo levato i pilastri di quercia di lato e li abbiamo risostituiti col bambù direttamente, signori. Lo facciamo molto più semplice, molto più lineare, così non dovrebbero esserci grossi problemi di modo di vedere. Ecco, diciamo, mettiamola così. Allora, qui noi dobbiamo lasciare due spazi e due così. Uno, due, e uno e due. E qua andiamo a chiudere così, perfetto, così ce l'abbiamo uguale da questo lato. Capiamo come fare questo lato di qua, che potremmo andare a fare con tre finestre o se no un finestrone unico qua dietro. Facciamo un finestrone unico qua dietro, così risparmiamo anche materiali e non ci rompano le scatole. Ok, un finestrone unico qua dietro non mi piace. Finestrone ne abbiamo? Iniziamo a piazzare i vetri, così la nostra casa prende forma, signori. Mi basteranno i vetri? Spero di sì, spero di sì. Anche perché poi mi sono fermato dal cuocere, quindi altri sei, sì, ce lo facciamo perché riusciamo a mettere altri tre di qua. Non abbiamo ancora il pavimento che ora facciamo velocemente. Io mi devo avvicinare a sta cazzata di Caffeine Table. Caffeine? 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 Caffeine Caffeine Table che mi ha rotto un attimino le scatole. E la facciamo con gli assi di quercia. Pagetto, sì, così quantomeno cambiamo un attimino e direi che va bene. Facciamo così, facciamo gli slab, lo facciamo tutto con gli slab e chi se ne frega. 12, va bene, questi dovrebbero bastarmi, questi di qua, perfetto. E andiamo a mettere il pavimento, andiamo a mettere il pavimento così possiamo entrare a casa nostra che già sarebbe qualcosa di utile e un buon passo avanti, signori. Ok, ovviamente sapete benissimo che le cose belle a noi non piacciono, signori. Noi non facciamo cose belle per i videogiocatori di Minecraft, noi facciamo cose brutte, cose brutte che nessuno ci invidia. In tutto questo di slab mi sono finiti, che è una rottura di scatole. Allora, mi fai una galtra che ha finito, mi rompe troppo le scatole e torna là sotto per far nuovamente 4 slab. Mettila qua, che cosa bellissima, fai un po' di questi, perfetto, metti così, questi li metti di qua, questi li pigli, li spiazzi qua, perfetto. Questi falli tutti così non dovremmo avere problemi di slab che mi mancano. Ok, perfetto. E direi che ci siamo, signori. Il pagamento di casa nostra è fatto. Facciamo poi la porta con il bambù, che voglio, signori, signori miei, voglio la porta con il bambù. Facciamo una pedana a pressione con la quercia, ok? Quindi pedana a pressione qui, così si mimetizza. Porta di bambù qui. Oh, che cosa carina, signori. E intanto abbiamo una parvenza di casa, che non è per niente male. Dobbiamo anche fare il tetto. Il tetto, il tetto, il tetto, il tetto, il tetto. Il tetto, come lo facciamo il tetto? Bella domanda, bella domanda. Allora, signori, il tetto lo sto facendo un pelo più alto, così dovremmo entrarci tranquillamente senza problemi di sbattere la testa o senza problemi di dover mettere una torcia così da poter usare. Mi resta solamente due di bambù. Va bene, facciamone qualche altro di bambù. Sei, dai, abbondiamo, non si sa mai. Ok. Taggete e tichete. Due mi bastavano, porca paletta ambriaca. E sopra, che si vede questo coso così, io direi che ci potremmo andare a mettere dei gradini, così per camuffare un attimino. Sì. Dei gradini con dei gradini. Vediamo come vengono gli assi di bambù. Vediamo come vengono i gradini, signori. Scusatemi. Sono ignorante in materia. Sono decisamente ignorante in materia. Otto. Che me lo faccio? Otto. Me ne fai qualche altro, quantomeno? Scusami. Oh, dai. Tanto abbiamo bambù in maniera aiuta, signori. Abbiamo bambù che lo possiamo vendere. Ora, fammi salire un attimo qui. Saliamo così. Ok. E mi metti questi così. Dici, ha senso? Potrebbe, dai. Potrebbe avere il suo perché. Potrebbe avere il suo perché. Ora, andiamo a vedere da davanti. E poi magari dentro ci andiamo a mettere, che non possiamo metterci, le potremmo andare a mettere magari gli assi questi qua normali. Così dà la sensazione, mi sento gli assi normali questi di bambù. Così dà la sensazione di, vediamo come sta avvenendo da... Intanto mettiamo una torcia qua sopra che... Ah no, qui non posso mettere torce. Bene. Sul tetto non posso mettere torce. Vediamo. Signori, è brutta forte. Ma la modificheremo. Intanto abbiamo un tetto sulla testa e questa cosa mi sta più che bene. Mi sta più che bene. Abbiamo solamente scendere gli ultimi 4 gradini che io metto in maniera così brutta. Ma porca. Ma io dico, ma si può essere così sfortunato da sbagliare il lancio del gradino? Allora, signori, mettiamo questi ultimi gradini dove devono andare che secondo me mi bastano 12 ma secondo me è mai nella vita. Quindi va bene così, così, così. Va bene, questi mi dovrebbero bastare. Fatemi mettere semplicemente questi gradini qui. Dopodiché per oggi, signori, ci fermiamo che ho pensato troppo e ho fatto troppe cose brutte. Quindi mettiamo questi ultimi gradini qua. dopodiché con calma off camera me la penso e eventualmente modifichiamo nel prossimo video modifichiamo qualcosa, signori. Il fine settimana porterà consigli. Porterà consigli e tanti commenti che mi aiuteranno a migliorare. Sì. Sì. Così è brutta, signori, ma da qualche parte dobbiamo pure iniziare. Detto questo, signori, io vi ringrazio per questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suoi genti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga. Ciao.